Siamo con Antonio Lobbaido, presidente del Comitato per la tutela dell'invaso Poma, qui all'ex convento dei Carmelitani. Ecco, questa sera ancora una volta si analizzano le criticità rispetto alla crisi idrica. Il Comitato stasera si riunisce perché giorno 14 di marzo, quindi mercoledì prossimo, presso la Real Cantina di Partenico, si terrà un consiglio comunale congiunto aperto, quindi sono 11 comuni che parteciperanno a questo consiglio comunale aperto e elenco velocemente Alcamo, Balestrate, Trappeto, San Giuseppe, San Cipirrello, Partenico, Borgetto, Monreale, Giardinello e Montalegro. Un po' tutti quelli dell'Interland. Perché c'è stata questa attenzione, questa sensibilità da parte sia dei sindaci che anche dei consigli comunali perché stiamo trattando un argomento che rappresenta l'economia, il sostegno della nostra agricoltura ma anche il discorso che fortemente vogliamo che quest'anno si dia l'acqua all'agricoltura nel nostro comprensorio. Naturalmente rispettando quelle che sono le esigenze di uso potabile. Il tema è davvero salvare l'acqua, acqua a fine irrigui, la Diga Iato nasce con questa finalità, quella di irrigare 7.000 ettari di terra. Non può ovviamente in questo sovrapporsi l'arroganza e la discrezionalità della municipalizzata AMAP cui ovviamente non solo l'amministrazione comunale di Palermo ma anche l'amministrazione comunale di Partinico Lobbiundo con la complicità del governo Crocetta e dell'ex assessore Cracolici ha generato questo sistema. Dieci anni dove c'è veramente tutto a rifare, le reti ridotte a Colabrodo, il primo lotto almeno sul quale intervenire subito e poi via via l'emergenza. Avevo preso un impegno che era quello di incontrare il direttore di consorzio di Bonifica, l'impegno è stato mantenuto, adesso andiamo verso questa assemblea con gli 11 consigli comunali e il comprensorio per poi subito e dopo incontrare l'assessore regionale. Altro dato importante è questa mobilitazione attraverso i suoi appelli che produce e genera una mobilitazione di volontari nel territorio, mi sembra un segnale importante questo. Noi con Scarponi e Rastrelli siamo stati sulla diga, abbiamo fatto il lavoro che probabilmente gli operatori non avevano realizzato in tanto tempo, questo crea un effetto moltiplicatore rispetto a tutti quei volontari del territorio che spesso non sono né tecnici né uomini con competenze pacifiche ma sono uomini di grande e buona volontà che hanno a cuore veramente l'interesse del territorio e noi accanto a quegli uomini e a quelle donne vogliamo stare vicini. L'agricoltura ha la priorità perché nel nostro territorio si vive di agricoltura, tutto viene dall'agricoltura, il cibo principalmente viene dall'agricoltura, quindi se l'agricoltura è rimane senza acqua e indubbiamente abbiamo anche delle grosse difficoltà anche nell'alimentazione oltre che potabile. Abbiamo visto momenti di alta tensione durante questa riunione, soprattutto la diatriba tra lei e il Presidente del Consiglio Comunale, perché? Cosa è successo? Niente, assolutissimamente niente sul piano personale, era sul piano politico che volevo capire che ruolo aveva il Presidente Aiello in questo contesto, visto che lui insieme alla ex amministrazione è stato uno che ha contribuito allo sfacelo totale di questa situazione, volevo capire soltanto con quale ruolo e con quale spirito faceva parte di questa organizzazione, di questo comitato. Grazie a tutti!